I CDJ-2900 offrono una qualità audio nettamente superiore e la possibilità di riprodurre file audio a 24-bit grazie a un convertitore DAC incorporato, ad accompagnarlo un nuovo circuito di uscita audio-ibrido anch'esso con un impareggiabile rapporto segnale-rumore o SNR. I 2900 si avvalgono di convertitore DA Wolfson, capace di riprodurre fedelmente i suoni. Il 2000 vanta un SNR di 117 dB, ovvero 11 dB in più rispetto al CDJ-1000. Questo dispositivo crea un'immagine sonora pianologica rispetto al precedente DAC audio, con tecniche di conversione tradizionali come l'allegato link conversion. Abbiamo inoltre conferito ai circuiti audio un percorso di segnale brevissimo per raggiungere i 120 dB in uscita, il che significa che i 117 dB garantiti da Wolfson sono percorso perfettamente supportati. Inoltre, abbiamo separato la sezione analogica e quella digitale per evitare contaminazioni rumorose. Abbiamo usato inoltre una messa a terra isolata, così che i circuiti analogici siano racchiusi. La resa sonora è più precisa che mai, quindi è importante sfruttare a pieno le funzionalità a 24-bit del CDJ. Nel caso di file MP3, il compressore potenzia i suoni più acuti, risparmia spazio per i dati eliminando i toni più flebili e la ridotta gamma dinamica elimina altre sottigliezze. Tutto questo può risultare poco evidente con l'impianto di casa, ma con diffusore di qualità o di grandi dimensioni la differenza è molta. La resa CD audio è tutto sommato migliore, ma i file a 24-bit offrono sonorità nettamente superiori ben 256 volte più dettagliate.